Però lei ha detto, Sorrentino Servillo, ha detto che il Movimento 5 Stelle è come quelle serate bellissime che la mattina dopo si dimostrano solo il frutto effimero di una sbronza. Lei sarebbe pronto a interpretare Grillo? Lei ha interpretato tanti politici, ogni tanto, il più noto di tutti Andreotti. Mi è capitato di farne diversi, infatti spero che sia cominciata una lunga vacanza da questo compito perché poi interpretare un politico per un attore significa doversi liberare dalle zavorre dell'interpretazione che c'è prima e che il pubblico si è fatta da sola di quel personaggio immaginario o reale prima che tu lo proponga sullo schermo. Io sto aspettando e mi auguro che Paolo sia il primo di fare un personaggio che sia tormentato dall'amore piuttosto che dalla politica. Al di là della battuta, quando abbiamo lavorato sul Divo c'era una distanza temporale che ci ha consentito di fare in modo che quel personaggio fosse la rappresentazione di un arco temporale preciso in cui in questo paese è accaduto di tutto e sono accadute cose molto gravi, vere e proprie tragedie di cui non c'è ancora una spiegazione, che sono ancora avvolte nel mistero e quel personaggio si trovava al centro della responsabilità, della guida del paese o come Presidente del Consiglio o come Ministro in ruolo di Ministro di grosse responsabilità. Quindi io non mi sono calato nei panni di, ho rappresentato il mistero e la solitudine di un uomo di potere al centro di anni in cui in questo paese è accaduto di tutto, dalle stragi di mafia, ai suicidi eccellenti, agli scandali finanziari quindi probabilmente credo che... e poi insomma... Ti piace Grillo? Glielo posso chiedere? Devo essere sincero? No. No. Perché? Non mi piace il linguaggio, non mi piace il tono, mi sembra che riproponga un'immagine di liderismo che è molto vecchia, che viene da Rienzi, passa per Masaniello, è stata Berlusconi e adesso diventa lui cioè molta violenza nel linguaggio, molta protesta che è anche vera ma molta poca proposta, molto liderismo io ho ricevuto un'altra educazione anche alla politica, anche allo stare insieme il palcoscenico mi ha insegnato una moralità e anche questo lavoro credo che me la insegni giorno per giorno non mi sembra di riscontrarla... Che moralità le ha insegnato il palcoscenico? Ma è tante moralità, che significa dal compartimento quotidiano alla collegialità al camminare insieme, allo stare ad ascoltare chi ha più esperienza di te a fare tesoro del passato e non buttare tutto in un cestino cioè mi ha insegnato anche a non distruggere soltanto, ma a cercare anche di costruire mi rendo conto che mi faccio dei nemici, ma me li faccio volentieri cioè lei mi ha fatto una domanda diretta e io le rispondo, anche se ero venuto per parlare di cinema ma insomma non mi piace Lei, Sorrentino? Anche a me non suscita grandi entusiasmi mi lascia perplesso la sicurezza con la quale stabilisce chi sono i buoni e i cattivi insomma ho sempre diffidato di queste definizioni così nette perché fa credere automaticamente che lui sia immune da qualunque forma di responsabilità o di possibile scivolare Ma poi insomma viene dal vostro mondo, perché viene dal mondo dello spettacolo Ecco, proprio quello che mi fa una certa impressione nel senso che prima, cioè vede, io credo che proprio quella moralità o quella formazione a cui facevo riferimento creda profondamente in un concetto che è quello della sovranità La sovranità nel nostro paese è espressa dal Parlamento che legifera e che viene eletto democraticamente Mi sembra che dietro Grillo, e questa è la ragione per cui non mi piace ci sia delle spinte distruttive che vanno contro questo concetto di sovranità che io rispetto e dietro la distruzione di questo concetto di sovranità e quindi di rappresentanza secondo me c'è il vuoto non c'è nulla c'è un'astrazione che secondo me ci porta in zone dove poi vince il personalismo vince lo slogan vince un liderismo dietro il quale appunto si va a volte come pecore chiaro non so se mi sono spiegato lei mi invita a parlarne e io ne parlo il concetto è assai chiaro è